Sì, hai detto bene, effettivamente è stato così, siamo partiti studiando l'avversario nel senso che ci aspettavamo una squadra attrezzata e così è stato Siamo riusciti con il passare dei minuti a prendere bene le misure, a prendere bene i tempi e piano piano siamo venuti fuori fino poi a questo effettivamente 1-2 che ha chiuso la partita per certi versi, anche se sul 2-0 non bisogna mai dare per scontato niente e siamo stati bravi fino alla fine oggi In effetti avete giocato una gran partita, forse non avete chiuso prima e avete concesso una palla del 2-0 a loro un possibile gol Sì, hai detto bene, effettivamente è così, ma questa è un po' la caratteristica di questa squadra o meglio un lato dove dobbiamo migliorare dobbiamo essere più cinici, dobbiamo chiudere le partite perché effettivamente dopo il 2-0, il secondo tempo appena entrati abbiamo avuto due occasioni stratosferiche con Marangone, una di testa e una tu per tu e lì avremo chiuso anticipatamente la partita quello è un aspetto che dobbiamo migliorare ma va bene, intanto va bene Senti Sandro, un segreto, questo cambio di passo delle tue punte che è veramente qualcosa di impressionante da cosa nasce? Beh, nasce dalle loro qualità, io non invento niente, non faccio niente posso essere solo fortunato ad allenare giocatori come Marangone, Parisi, Zenga, Di Renzo e non voglio dimenticare gli altri, cioè dovrei elencarli tutti per il mio modo però sicuramente per quello che riguarda gli attaccanti sono l'org, sono dei grandi attaccanti Senti, un campionato che vede voi, la città di Baveno e il Bellinzago stasera tutte e tre avete vinto, sarà penso un testa a testa fino alla fine? Beh, me lo auguro, me lo auguro che sarà un testa a testa fino alla fine perché noi ci crediamo e devo dire che questi risultati confermano quello di buono che facciamo durante la settimana e quello che di buono abbiamo preparato e pensato a inizio stagione Lotteremo fino alla fine, me lo auguro, sicuramente ci sono due squadre super attrezzate noi ci proviamo domenica dopo domenica, stiamo facendo bene, bisogna solo continuare, continuare, continuare Mimmo Cicciu, direttore sportivo della Pro Settimo Eureka stasera una bella vittoria anche se per mezz'ora avete un po' sofferto E beh, sapevamo il valore del gas, la partita era stata preparata Loro hanno giocatori che potevano farci male, specialmente i tre davanti, i breviline, i veloci però poi una volta prese le misure, sicuramente sulla fascia Gallace di Renzo con Marangone che ha finalizzato, insomma, due gol in fotocopia, li abbiamo un po' storditi sicuramente Al di là di questo una grandissima prestazione nel secondo tempo, tantissime occasioni se vogliamo proprio trovare un pelo nell'uovo, forse non siete poco cinici nel chiudere proprio la partita perché in fondo sul 2-0 avete concesso una grossa palla-gola agli avversari Probabilmente c'è un calo, perché poi forse non siamo, ero col press in tribuna, diceva probabilmente bisogna essere più determinati, l'occasione di Marangone, il palo di Zenga, l'altra di Gallace probabilmente c'è proprio un calo, ti senti come se fossi soddisfatto e va bene così e invece, insomma, noi vediamo gli avversari, il Bellinzago stasera ha vinto 4-0 insomma, non bisogna mai calare l'attenzione Vimmo, 22 punti su 24 disponibili, 3 squadre al comando voi la città di Baveno e il Sporting Bellinzago, sarà testa a testa fino alla fine? Beh, speriamo, perché vuol dire che ci siamo, insomma, se ci sono anche gli altri va bene così